buongiorno agli ascoltatori la verità alle 7 segna politicamente scorrettissima della verità buon lunedì buon 28 dicembre a chi ci segue in diretta a chi ci segue indifferita ieri è stata una giornata se non fosse stato per il fatto che le immagini erano a colori e non in bianco e nero qualcuno avrebbe potuto evocare le edizioni del cinegiornale Luce la vaccinazione Arcuglia e Speranza con Maravenier i telegiornali la gran giornata di quella che è stata definita la vaccinazione simbolica e sì perché poi gran pompa ma i vaccini non c'erano, in Italia soltanto 9.750 dosi per questa giornata di ieri con gaff ieri sul Corriere della Sera intervista del commissario Arcuri sentito mi pare da Monica Guerzoni che richiesto della differenza tra le 9.750 dosi date all'Italia e le 150.000 date come prima giornata alla Germania e ha messo lì ma c'è un problema c'è una cosa data in rapporto alla popolazione se non che l'Italia ha 60 milioni e la Germania 83 milioni di abitanti quindi come dire questa proporzione non si capiva bene si sono dovute aspettare la serata di ieri per avere una nota in cui per un verso il ministero della salute per un altro verso la struttura commissariale correggevano il tiro dice no guardate poi in realtà le dosi iniziali erano 11.000 quella della Germania il resto sono un anticipo del flusso successivo che inizierà da oggi questa settimana sarà molti a partire dalla verità non trovano questa spiegazione convincentissima mentre si discute meno del tema che mio personale avviso per quel poco che vale la mia opinione dovrebbe essere centrale ma dov'è il piano vaccinale italiano? perché dobbiamo aspettare le primule queste strutture scenografiche e non invece usare palestre strutture che hanno già la luce il riscaldamento, i bagni qual è la tempistica? perché solo nella legge di bilancio sono stati inseriti i 650 milioni per le assunzioni di personale per questa operazione? dunque non era pronto niente e questo è il problema l'altro tema della giornata è il riaffacciarsi della novella della verifica allora la sensazione è che la tensione sia vera i renziani hanno fatto arrivare un documento molto impegnativo e molto critico anche sul recovery plan italiano naturalmente nessuno è in grado di prevedere se questa tensione che sembra veramente molto forte su conto non solo da parte dei renziani ma anche da parte dei settori del PD nessuno è in grado di prevedere se però porterà a un cortocircuito a un momento di caduta del governo andiamo a vedere le aperture la verità alcuri dà i numeri e sono sbagliati la campagna di immunizzazione comincia male il commissario dice un'enormità virgolette le fiale sono in proporzione agli abitanti i tedeschi 83 milioni noi 60 partono con oltre 150 mila dosi l'Italia con meno di 10 mila e lui non è il momento delle polemiche così l'apertura della verità Corriere della Sera francamente un po' curioso tra titolo e sommario titolo corsa a vaccinare gli italiani dunque il lettore dice ah che bello insomma qui si va veloce sottotitolo campagna di massa solo ad aprile e allora capite bene che il tema del piano vaccinale che di fatto non c'è è drammaticamente diluito nel tempo si ripropone e la sensazione è che tutto sia drammaticamente sconnesso rispetto all'esigenza di aprire velocemente il paese il fatto quotidiano dice non abbiamo vinto ma vinceremo vaccini partiti col via libera a Oxford ce ne sarà per tutti e sì perché si attende dalle autorità britanniche il via libera al vaccino AstraZeneca il fatto quotidiano è come se ci facesse capire per via subliminale che quello che c'è a tavola non è sufficiente ma poi arriverà a quello che in una indimenticabile scena di amici miei Ugo Tognazzi chiamava il rinforzino il giornale furbetto del vaccino De Luca salta la fila casta sanitaria iniziata la profilassima il governatore Campano è un caso De Luca si è fatto vaccinare pur non avendo i requisiti per essere primissimo nella lista la stampa è speranza che parla a colloquio con Massimo Giannini entro fine marzo 13 milioni di vaccinati e infine Repubblica titolo un po' curioso vaccino comincia la ripartenza così comincia la ripartenza ma il punto è quando finisce la ripartenza cioè quando si riparta per davvero questo è il tema allora questo è il sommario e questo è il quadro delle aperture facciamoci aiutare da Maurizio Belpietro a un quadrare alla giornata protagonista non brillantissimo il commissario Alcuni domenica Alcuni non si sventisce mai ogni volta che apre bocca riesce a mostrare oltre che eroganza anche incompetenza l'ultima prova è di ieri richiesto di una spiegazione per l'esiguo numero di dosi del vaccino anti-covid assegnate all'Italia rispetto a quelle destinate ad altri paesi europei il super commissario prima ha risposto dicendo che abbiamo ottenuto in proporzione alla popolazione le stesse fiale avute dalla Germania poi è aggiunto che non è il momento di fare polemiche dopodiché Belpietro ricostruisce tutta la giornata tra propaganda e però invece mancanza di materia prima perché veramente le dosi disponibili ecco per usare un'espressione usata nell'editoriale ieri di Belpietro con quei 9.000 vaccini puoi vaccinare boh gli infermieri della Sardegna gli infermieri della Liguria siamo in un ordine di grandezza di questo tipo e poi la conclusione più di fondo per mesi abbiamo letto di trattative tra il nostro governo e le aziende farmaceutiche agli stati generali del 13 giugno per farsi un po' di pubblicità Roberto Speranza annunciò di aver sottoscritto personalmente un contratto con AstraZeneca per 400 milioni di vaccini destinati a tutta la popolazione europea poi il 10 novembre fece filtrare sulle pagine di Repubblica la notizia di una videoconferenza di fine ottobre con i dirigenti della Pfizer scopo definire l'acquisto delle dosi anti-covid risultato a oggi l'unica certezza sono le 9.750 fiale arrivate su un pulmino Mercedes così Maurizio Belpietro e questo ripropone un tema che è quello della scelta di centralizzare gli acquisti a Bruxelles è stata una buona scelta alla rinuncia almeno in prima battuta degli stati a prevedere un acquisto anche da parte propria la sensazione la SPD tedesca lo sta già annunciando è che poi ci saranno dei riacquisti da parte dei vari paesi sapete anche che il weekend è stato caratterizzato da una polemica assai importante aperta da una fonte insospettabile il settimanale tedesco Derspiegel che ha detto ma guardate che le case farmaceutiche che avevano subito i vaccini pronti Pfizer e Moderna avevano offerto a Bruxelles la possibilità di acquistare un quantitadio molto maggiore e invece la commissione europea ne ha acquistato un numero più limitato per tenere uno spazio grande nel bouquet degli acquisti europei per i vaccini della francese Sanofi piccolo dettaglio che i vaccini Sanofi arriveranno al secondo trimestre del 22 quindi tra 14 15 mesi e allora si pone il tema di un acquisto ulteriore che probabilmente alcuni stati stanno già prendendo in considerazione di fare ma perché quegli acquisti europei è una ipotesi di spiegazione ce la dà Antonio Grizzuti siamo sulla verità case farmaceutiche blindate negli USA l'Europa ancora tace le clausole dei contratti firmati dalla commissione sono state segretate plausibile che i produttori abbiano uno scudo penale e questo è diciamo comprensibile dal punto di vista delle case farmaceutiche che abbiano chiesto una malleva o un ombrello legale particolarmente vasto ottenendolo a Bruxelles però sarebbe il caso anche di farlo sapere ai cittadini diciamo qual è la situazione qual è il tipo di scudo di cui le case produttrici di vaccini godranno per carità ci fosse qui un rappresentante delle case di vaccini dire beh ragazzi in pochi mesi sono stati approntati farmaci che in altri tempi avrebbero richiesto anni di sperimentazione di test di trial eccetera e quindi una malleva legale ci vuole ragionamento ripeto ineccepibile dal punto di vista delle case farmaceutiche e il punto è far sapere anche ai cittadini quali sono le regole del gioco Mario Giordano sulla verità così ci andiamo a completare questa vetrina della edizione del lunedì della verità si rivolge a Ursula von der Leyen dicendo guarda che Trump è stato molto più bravo e i numeri parlano chiaro c'è già un milione di americani vaccinati la verità è nella sua edizione del lunedì che si caratterizza come sapete per una serie di interviste particolarmente ampie e anche oggi la panoplia è notevole perché Alessandro Rico sente Massimo Cacciari molto scettico sul recovery plan italiano e dice che c'era tanta propaganda ma poi ci sono problemi economici veri la gente mi ferma per strada dice non ho i soldi per pagare l'Imu per pagare questo per pagare quello Stefano Filippi sente Roberto Paura che è un scenarista un futurologo e che ripropone anche lui i problemi economici e il rischio di una patrimoniale Mario Giordano sente Giovanni Totti il governatore della Liguria che dice ma guardate che tutto il meccanismo della vaccinazione l'ha accentrato la struttura commissariale funzionerà noi come regioni forse facciamo bene a prevedere un meccanismo di copertura di backup una specie di seconda linea se le cose non andassero bene chi riparla sente Massimo Garavaglia uomo di punta della Lega nella battaglia alla Camera sulla legge di bilancio che diceva se uno sproposito come quello accaduto stavolta con la Camera che licenzi in prima lettura soltanto ieri sera l'avesse fatto il centrodestra a parte investire sarebbe successa una pochialisse che Garavaglia rivendica anche un successo dell'opposizione sulla decontribuzione agli autonomi e fa una serie di altre osservazioni e sulla campagna vaccinale e sullo stato di salute del governo e infine ma non è cosa meno importante delle altre anzi per tanti versi anche più godibile Giulia Cazzaniglia sente Vissani padre e figlio Vissani a nome dei vistoratori pone è tutto motivatissimo che ieri doleanos rispetto ai comportamenti del governo addirittura preannuncia azioni legali ma torniamo al filo principale che è quello diciamo che ha cominciato a srotolare Maurizio Belpietro allora il Corriere della Sera in questo caso con Alessandra Arachi ci fa sapere diciamo la tesi difensiva della struttura commissariale e del Ministero della Salute dosi simboliche quelle di ieri l'Italia ha avuto 9.750 vaccini per l'avvio contro 11.000 della Germania questa è la diciamo la versione serata le 150.000 dosi di vaccini che le sono state consegnate in più fanno parte delle forniture successive che nel nostro paese arriveranno dal 28 dicembre ha voluto precisare ieri il commissario straordinario Domenico Alcuri dopo che per tutta la giornata si erano rincorse cifre percentuali che sembravano penalizzare l'Italia e l'intervista di Alcuri al Corriere della Sera si erano rincorse voce non c'è stata alcuna discriminazione ai confronti dell'Italia aggiunge Alcuri l'assegnazione delle dosi è stata fatta a livello europeo vabbè ok questa cosa l'abbiamo già sentita a onor del vero però non è che sia convincentissima anche la versione che dà sentita sulla stampa la sottosegretaria Sandra Zampa a sentirla e Francesco Grignetti siamo a pagina 2 del quotidiano torinese polemica sulla Germania non avrà più fiale di noi e dice la Zampa ecco questi sono i numeri veri ma vedo che in questo paese c'è il complesso di Calimero e perciò noi siamo condannati a non farcela ma le cose non stanno così trovo inquietante che ci sia quasi una gara a scommettere sul fallimento italiano come se noi non potessimo fare altro che fallire così la Zappa e c'è un piccolo dettaglio però che diciamo questa sfuriata sarebbe diciamo più credibile e meno ridicola se fossero noti i dettagli del piano vaccinale come dire le strutture già pronte e invece qua a meno dei miei errori dei quali eventualmente mi scuso neanche c'è un budget per la realizzazione delle primule c'è tutta questa scenografia petalosa ma lo spiega anche bene Gheravaglia nell'intervista 650 milioni sono stati stanziati in un amendamento della legge di bilancio che deve ancora essere approvata per le assunzioni per la campagna vaccinale siamo lontanissimi dalla situazione tedesca dove piaccia o non piaccia già ci sono 410 punti in tutta la Germania nei 16 o quanti sono i Lander pronti per partire a raffica con la campagna vaccinale qui stiamo ancora alle comparsiate in tv da mare a venire invece c'è chi però diciamo ha saltato la fila ed è il governatore De Luca ovunque si parla di lui con la tesi difensiva l'ha fatto per dare il buon esempio e la tesi invece dell'accuso ha dato il cattivo esempio non aveva i titoli per essere inserito in questa prima tranche un po' tutte e due le questioni De Luca Furbetto e diciamo le pende del pavone messe a sproposito dal governo questi due temi sono tenuti insieme da Alessandro Sallusti un conte sul giornale Conte di Arcuglia e Speranza sull'arrivo dei vaccini non hanno toccato proprio palla semmai il problema è che proprio da ora in avanti tocca a loro gestire distribuzione somministrazione e non vorremmo si ripetesse il caos delle mascherine dei tamponi dei banchi a rotelle eppure del normale vaccino anti-influenzale di fatto introvabile e poi più avanti la parte su De Luca a nessuno di noi è concesso fare quello che ha fatto il governatore PD della campagna De Luca cioè scavalcare la fila e rubare il vaccino a qualcuno che ne ha più diritto non ci è concesso neppure se siamo malati o particolarmente fragili De Luca ha 71 anni se non sbaglio tra le categorie e il rischio prima vengono gli ultraottantenni e in campagna ce ne sono ben 300.000 così tra l'altro è difficilmente contestabile la critica che avanza Saludosti sulla stampa il titolo d'apertura è quello legato alle dichiarazioni rese in un colloquio qualche volta commentando certe interviste ci capita di ricordare quel bel quadro di uno dei maestri macchiaioli Silvestro Legge quadro è la visita ci sono queste signore che si salutano ha proprio la sensazione di una conversazione così leggiadra e amicale e questo è un po' il tono del colloquio tra Giannini e Speranza che in realtà non dice granché se non diciamo questa evocazione di AstraZeneca Speranza ci presenta come uno scoop una cosa che era sul Sunday Times di ieri ma a me me l'hanno detta di prima mano eccola qua l'ho appresa poco fa da Pascal Soriot CEO di AstraZeneca il Sunday Times ha annunciato che il loro vaccino ha raggiunto il 95% di efficacia e che già entro questa settimana l'agenzia del farmaco della Gran Bretagna potrebbe dare via libera alla commercializzazione è bel capolavoro quindi Speranza ci comunica che sta per arrivare il vaccino con cui lui aveva detto a giugno di avere raggiunto un'intesa e poi invece hanno affidato le cose a Bruxelles e che ora come dire si sbrivieranno le autorità regolatorie della Gran Bretagna e per la seconda volta faranno prima del lema e delle autorità europee nonostante tutti gli insulti che la classe dirigente italiana ha riversato a Brexit ma sulla stampa diciamo oggi è il giorno delle interviste curiose perché non c'è solo la sottosegretaria Zampa il ministro Speranza c'è anche Enrico Letta lo sente Fabio Mertini e vedete che cosa riesce a dire Letta nove mesi fa chi avesse detto che a Natale ci sarebbe stata la prima iniezione sarebbe stato preso per pazzo un grande successo per tutto l'Occidente attenzione tenetevi forte grazie alla collaborazione tra Stati Uniti ed Europa come grazie a case farmaceutiche al capitalismo vibrante al mercato alla competizione cosa c'entra l'Europa e il bandierone europeo in cui Letta si avvolge l'unica cosa in cui c'entra l'Europa è che l'EMA l'autorità regolatoria europea ci ha messo un mese in più a validare il vaccino il primo vaccino Pfizer rispetto a quanto abbia fatto l'autorità britannica va bene vi dicevamo che è lunedì c'è stata in fondo la coda del fine settimana per due giorni i giornali non sono usciti poi sono usciti ieri ma era domenica in qualche misura oggi è un lunedì di ripresa della politica e un po' tutti i giornali fanno un articolo che ricostruisce ma come ci eravamo lasciati con la cosiddetta verifica il Corriere della Sera affida questo compito a Tommaso Labbate che in qualche misura descrive questo gioco incrociato di blef tra Conte e Renzi oggi è il giorno della concretezza Conte mi occupo di cose concrete virgolette è Conte che parla Renzi dice che dobbiamo confrontarci sui temi perché del resto non gli interessa bene proprio quello di cui mi sto occupando io e di cui continuerò a occuparmi nei prossimi giorni i temi i dossier del recovery plan argomenti cose concrete punto metteremo sul tavolo un piano dettagliato che sarà pronto subito dopo Capodanno vabbè e questa è la versione la versione di Conte sul Corriere della Sera la versione di Renzi ce la fa capire Repubblica con due pagine di fatto la pagina U14 curata da Giovanna Vitale recovery tutto da rifare il PD frena sulla crisi da Italia Viva 50 proposte a Conte voi capite bene che se un partner di maggioranza fa 50 osservazioni sul testo è parente di una bocciatura non si tratta di emendamenti diciamo per arricchire nella pagina accanto a firma di Annalisa Cuzzocrea si prosegue con un altro tema che appassiona molto la politica questa storia dei servizi e della delega ai servizi che Conte vuole tenersi e che tutti gli altri vogliono sfilargli ma posto che ci riescano chi la prenderebbe braccio di ferro sui servizi Renzi sbarra la strada idem l'ex premier dice il PD controlla già finanze e carabinieri è troppo e questa è francamente questa frase allora che naturalmente nessuno venga dallo spirito santo e quindi le nomine abbiano anche una targa un'origine eccetera però dire che il PD controlla la finanza dei carabinieri e che dunque per questo Renzi debba mettere si capisce quale etichetta sul tema dei servizi sembra diciamo come sintesi non sembra proprio venuta benissimo vedrete che i renziani saranno costretti oggi a una qualche messa a punto mentre è ancora preoccupato uno dei commentatori che più hanno fatto sponda al governo in tutti questi mesi Marcello Sorgi lo scontro di fine anno in un clima avvelenato ricostruisce diciamo tutte le asprezze di questo weekend e conclude per questo il Quirinale sorveglia questa nervosa fine d'anno con legittima apprezzione l'apprezzione del colmo un grande un grande classe un altro tema che è tornato ed è tornato d'attualità per la quindicesima intervista sul tema uscita ieri mi pare proprio sulla stampa di Buffredo Bettini che diceva poi se si se si sfascia tutto non si ricompone si va al voto e se andrebbe al voto con i partiti della coalizione più un partito di Conte allora si ripropone il tema ma c'è o non c'è il partito di Conte oggi i giornali si affaticano sull'argomento forse la cosa più interessante da considerare è il pezzo di Maria Teresa Melli che va a sentire una serie di sondaggisti i quali concordano su una serie di temi e sono invece discordi sul quantum ma quanto prenderebbe quello su cui concordano ed è abbastanza ovvio che Conte non avrebbe praticamente consenso tra centrodestra e astenuti al massimo gratterebbe qualcosa a PD e 5 stelle ma attenzione la più affilata è Alessandra Ghisleri che dice avevamo testato il partito di Conte un bel po' di tempo fa ed era intorno al 4-6% ma era la fine dell'estate e ora figuratevi con diciamo una situazione sociale impicchiata perfino Pagnoncelli che l'altro giorno ha dovuto pubblicare era l'ultimo giorno di uscita dei giornali prima della pausa il 24 una situazione di grandissima sfiducia degli italiani sul governo sulla situazione economica eccetera se si partiva da un 4% teorico immaginatevi poi quando si arriva quando si arriva su carta la verità ha posto da molti giorni l'ha fatto sostanzialmente quasi in solitudine c'era stata una bella prima pagina qualche giorno fa di Italia Oggi ma poi gli altri giornali non avevano molto valorizzato un tema invece bruciante per la sua importanza questa storia dei 31 milioni di cartelle in partenza una follia avendo la maggioranza omesso di fare uno stop nella manovra nei milleproroghe nei decretori stori a meno di ulteriori interventi dal 1 gennaio ci sono 31 milioni tra cartelle atti di riscossione altri atti dell'agenzia delle entrate che sono pronti a partire un bagno di sangue e in più attenzione con lo stop anche alla sospensione delle tasse da marzo al 31 dicembre il 31 gennaio 30 giorni dopo la fine dello stop uno dovrebbe pagare tutte le tasse che sono state prima sospese cioè bagno di sangue una cosa inenarrabile si sveglia la sottosegretaria Castelli dopo probabilmente aver letto il paginino di ieri sulla verità diceva facciamo un'intervista per mettere una pezza e la va a fare al fatto ma la pezza non riesce benissimo il titolo è accattivante non ho lo scostamento di bilancio e saldo e stralcio per le cartelle insomma il messaggio che si vuole regolare tranquilli faremo un altro provvedimento di scostamento lì troveremo un modo per risolvere la questione la viceministra ci annuncia qualcosa di preciso no siamo alle opinioni penso che serva una rottamazione quater per gli anni dal 16 al 19 per dare respiro a quei contribuenti con morosità incolpevoli un nuovo saldo e stralcio potrebbe evitare la notifica di milioni di cartelle no francamente viceministro non ci siamo decisamente tanto dovete stoppare e quindi evitare che parta la notifica delle cartelle dopodiché il tempo lo potete utilizzare per fare una serie di cose la prima è la proposta lanciata ieri dalla verità che è quella di un nuovo piano di rateizzazione senza sanzioni dal 1 gennaio 22 la seconda ipotesi l'ha fatta Salvini è un saldo e stralcio la terza la fagga Ravaglia ha intervistato oggi sulla verità che dice si potrebbe fare una specie di mega concordato di massa una specie di accordo tra fisco e singolo contribuente ti posso dare questo e poi mi lasci in pace per un certo periodo ma non si capisce perché parli dal 16 al 19 perché se uno ha saltato delle rate IVA nel 20 gli fa arrivare lo stesso alla cartella ma come hai ragione io veramente c'è da rimanere a bocca aperta rispetto cioè questo è il fatto che una serie di contribuenti non esentati non siano riusciti a onorare tutte le scadenze fiscali nel 20 non la considera questa possibilità che fa il vice ministro all'economia va bene mentre qua e là noi vi segnaliamo un pezzo sulla verità un'altra nuvola nera che volteggia sulla testa dei cittadini che questa storia della nuova regolamentazione eba l'autorità bancaria europea che se non ci saranno interventi correttivi impedirà l'addebito di qualunque somma su un conto in rosso quindi anche se hai una bolletta uno stipendio da pagare eccetera devi prima coprire e poi quindi immaginate il caos anche nel sistema economico che si creerà ma soprattutto se c'è un rosso anche di 100 euro per un certo periodo di tempo due tre mesi va subito la segnalazione alla centrale rischi e che rischia di essere devastante perché lascia sulla persona o sull'azienda una cicatrice che poi nelle successive negoziazioni con quella banca può impedire l'erogazione di finanziamenti di prestiti insomma davvero non si capisce quale mente perversa possa pensare di introdurre ulteriori elementi di stretta creditizia più stigma sul cittadino proprio in questo momento in cui già c'è crisi di liquidità una follia ve ne parla la verità allora il nostro tempo per oggi è finito ben ritrovati noi ci ritroveremo questa sera alle 19 e poi di nuovo domani mattina alle 7 buon inizio di settimana ci prepariamo già dandoci già un primo augurio di buon anno ma l'invito principale è quello di passare oggi in edicola a prendere la verità che davvero è piena di cose buona giornata a tutti